Un protocollo d'intesa tra la protezione civile regionale, l'ANCE e l'UNCEM permetterà di creare una rete sui territori, nei comuni anche montani, per portare avanti una serie di attività di protezione civile che non siano solo legate alle attività emergenziali, come è stato ad esempio in pandemia, dove comunque la collaborazione tra comuni e protezione civile regionale è stata massima. I campi di intervento saranno diversi, dalla pianificazione alla prevenzione, passando anche per aspetti contabili. I sindaci saranno seguiti nelle loro responsabilità nell'ambito delle attività di protezione civile, compresa la formazione di volontari. Il documento è stato sottoscritto da Mauro Casinghini, direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, da Lorenzo Berardinetti, presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunitenti Montani Uncema Abruzzo e dal presidente dell'ANCE Abruzzo, Gianguido D'Alberto. È un protocollo che si promette di mettere in fila una serie di problematiche che hanno i primi cittadini, che sono, come sappiamo, le autorità di protezione civile locale e che è teso a risolvere le loro problematiche. Insieme a noi, che ovviamente siamo anche i portatori di particolari responsabilità che la legge ci affida nell'ambito delle attività di protezione civile. La pianificazione, innanzitutto, poi anche tutti gli aspetti legati alla gestione emergenziale, la formazione dei vari livelli, sia i livelli dei funzionari comunali, la valorizzazione e la promozione del mondo del volontariato di protezione civile, che è il nostro braccio armato, ma anche la gestione di alcuni aspetti contabili, che poi sono anche, diciamo sì, dei gangli molto particolari dell'amministrazione comunale. Consente al sistema di protezione civile, il rapporto fra la protezione civile regionale e tutti i comuni, di qualsiasi dimensione, di affrontare tutte le questioni relative alla protezione civile non in un'ottica esclusivamente emergenziale, ma in modo costante, permanente, poi quello che il nostro tempo ci ha portato ad affrontare e soprattutto cercando di non lasciare nessun comune da solo, soprattutto i comuni di minore dimensione. Come Presidente dell'UNCEM regionale dei piccoli comuni montani abbiamo bisogno di questo protocollo per iniziare un'attività che vede coinvolta i piccoli comuni, un'associazione non tanto anche con i corsi di formazione, con i corsi, mettere l'opportunità ai piccoli comuni di mettere le grandi opportunità che hanno le grandi città, soprattutto per i volontari che frequentano questa protezione civile e credono veramente di dare la possibilità a chi abita dei comuni montani una cosa sociale, una cosa di opportunità. Il prossimo passo sarà mettere attorno ad un tavolo tutti i sindaci per poter così iniziare ad operare subito in sinergia.